eccoci qua Italia 1 Inghilterra 2 tutto molto brutto tutto molto brutto a partire da me da come ho guardato questa partita con quasi con me ne freghismo quasi senza pathos senza partecipazioni così ho guardato questa partita stasera lo so io la nazionale la tifo mi dispiace che non abbia raggiunto il pareggio che diciamo che potrebbe anche aver meritato alla luce del secondo tempo però ragazzi io fino all'ultima partita della nazionale che è stata con l'Austria se non sbaglio l'amichevole io tenevo affinché cioè appena si pigliava un gol io lo scazzo c'era lo scazzo c'era in National League ho tifato come un matto persino in National League poi voi sapete io non sono ipocrita poi è successo quello che è successo e devo dire che ho guardato Italia e Inghilterra 1 a 2 come nel 1981 la prima partita che guardo io che ho guardato della nazionale guardai Italia Danimarca non me ne fregava un cazzo sì è ovvio che si parteggia per l'Italia ma cioè a sette anni pensavo a giocare a fa casino e davo un occhio alla partita mentre la Danimarca di Elkiaer di Lerby e di Bastrup ci bastonava a Copenagher 3 a 1 la nazionale perché sarebbe poi diventata campione del mondo oggi ho visto quella partita con lo stesso stato d'animo non me ne fregavo un cazzo non ho sentito niente né quando ha segnato l'oro né quando ha segnato l'Italia niente anche se poi all'ultimo ho anche parteggiato affinché pareggiasse mamma non arrivo a godere come tanti giuventini li capisco pure per amor del cielo li capisco pure non li biasimo diciamo che non li biasimo ciascuno può fare le sue scelte però alla fine il tifo è passione e quando te la tolgono io forse gli giuventini della mia età noi giuventini boomer nati negli anni 70 anche prima da sempre identifichiamo la juventus con la nazionale perché noi siamo cresciuti siamo appassionati al calcio con quella nazionale lì che aveva 6-7 giuventini era inevitabile di fare per l'uno o per l'altra senza quasi senza distinzione oggi invece ma no perché non c'erano i giuventini nel modo più assoluto io l'Italia di vicini che di giuventini ne aveva pochissimi l'ho tifata alla grandissima l'Italia di vicini l'ho guardata con l'indifferenza che è il peggiore dei sentimenti veramente è il peggiore dei sentimenti e poi parliamo della partita ragazzi volendo analizzare la partita loro ci sono stati superiori in tutto e per tutto non inganni il secondo tempo disputato più per rabbia che per altro loro sono è vero che sono anche calati però loro in pratica con questa vittoria sono garantiti la qualificazione noi invece ci sarà da soffrire con Ucraina con Macedonia ci sarà da soffrire già a Malta cioè non vi aspettate la goleata a Malta perché non ne abbiamo mai fatte tempi di pace figuriamoci in tempi di guerra poi tutto è possibile io non me la piglio neanche col mister Mancini perché che cazzo deve fare poverino che cazzo deve fare signori siamo questi nel primo tempo finché sì avevamo anche iniziato bene ma poi loro hanno cominciato a giocare cioè ragazzi se finiva 3-4-0 il primo tempo non c'era nulla da dire ma niente 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 cioè Grealish il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio si è mangiato un gol su 2-0 ragazzi che Dio ce ne scampi poi nel secondo tempo un po' forse la strigliata del mancio negli spogliatoi il mancio è uno che non ci sta a perdere lo conosciamo un po' una reazione d'orgoglio abbiamo trovato sto gol più che altro per una errata disposizione della loro difesa fatto con questo ragazzo che non parla manco italiano cioè vi lascio immaginare il mio stato d'animo non per lui per l'amor del cielo se ne sarà già pentito di aver scelto la nazionale italiana se ne sarà già pentito secondo me mi hanno trovato il gol poi abbiamo trovato anche la superiorità numerica e lì ci siamo spenti lì ci siamo spenti completamente sapete perché? perché non sappiamo attaccare allora è bastato fare densità al centro dell'area allora è bastato fare densità al centro dell'area di rigore e non c'è stato più nulla da fare praticamente perché? chi va a saltare in mezzo a big wire in mezzo a stones chi va a saltare in mezzo a quelli a saltare a sgomitare non abbiamo più centro avanti da una vita ragazzi per trovare un centro avanti degno di questo nome bisogna scendere non dico in serie B però c'è Petagna del Monza c'è Scamacca per me andava fatto giocare il nostro cacchio di rete quando si è trattato perché noi solo 0-2 abbiamo anche avuto una bella reazione però non vorrei fosse figlia di una loro dormita del fatto che loro avessero dato oramai già per scontato il risultato difatti dopo il 2-1 non abbiamo praticamente più tirato in porta non abbiamo più tirato in porta perché non sappiamo tirare in porta noi non ci siamo andati ai mondiali perché non sappiamo più tirare in porta lo dico sempre sto fatto non sappiamo più tirare in porta quindi allora avete visto come si giocava per carità li abbiamo anche messi sotto li abbiamo anche messi nella loro area di rigore però come si giocava da destra a sinistra da sinistra a destra da destra a sinistra da sinistra a destra 20.000 passaggi al limite dell'aria e loro stanno lì belli comodi a guardare qualche calcio d'angolo ma nient'altro perché non sappiamo attaccare non sappiamo attaccare non abbiamo centra avanti che sgomitano in aria l'ultimo forse è stato Luca Toni forse è stato Luca Toni vi parlo già Luca Toni al massimo della forma non i Luca Toni del Verona vi parlo già di 15 anni fa è inevitabile che se tiri da fuori oramai nelle giovanili ti sostituiscono perché tra noi si ragiona così noi si imita male i grandi allenatori esteri o gli allenatori più alla moda eh sì va così purtroppo va così purtroppo va così ragazzi siamo di una tale pochezza raga che io ve lo dico subito noi rischiamo di non andare manco all'europeo davvero lo dico a parte gli inglesi c'è lo spauracchio macedonia che uno dice macedonia del nord e pensa però poi vai a guardare chi gioca in premier league eh Aglioschi eh quello del Leeds chi gioca nel Napoli Elmas fino all'altro giorno avevano Pandev hanno un paio di buoni giocatori Sotraikovski poi Nestorovski giocatori che tra l'altro ci conoscono quindi fate un po' conto voi fate ed è la Macedonia che ci ha eliminato ma la Macedonia se ricordate noi l'abbiamo trovata anche le qualificazioni per i mondiali in Russia vincemmo soffrendo le pene dell'inferno in casa loro 3 a 2 eravamo sotto fino a 2-3 minuti dalla fine poi la ribaltammo nei minuti di recupero se non sbaglio e poi a Torino vennero a pareggiare 1 a 1 ed è la Macedonia a Malta già vi ho detto che non siamo capaci di fare goleate l'altro è l'Ucraina che avrà anche i suoi problemi l'Ucraina avrà anche i suoi problemi l'Ucraina che ben conosciamo ma signori io vi voglio ricordare una cosa l'Ucraina è campione del mondo in carica del mondiale under 20 e adesso quelli che hanno vinto quel mondiale sono tutti il nazionale A Mudrik Zinchenko il portiere Lunin che ha giocato anche nel Real Madrid cioè voi davvero pensate di farmi una passeggiata con l'Ucraina ragazzi ve lo dico in pruse musica noi rischiamo di non andare neanche all'Europeo e non perché hai perso oggi perché oggi meno male me l'aspettavo perché poveraccio Mancini poveraccio Mancini che cazzo deve fare cosa cosa deve fare Mancini se non abbiamo talenti se li deve letteralmente inventare i giocatori Mancini peccato perché deve accollarsi sulla sua persona Roberto Mancini il fallimento di un modo di concepire il calcio in Italia bella la rinascita del calcio italiano vero Ziliani bellissima ma può un sorteggio un paio di sorteggi con buco di culo per non dire altro che qualche sospettino qualcuno ce l'ha io non sono d'accordo però molte coincidenze ma può essere una botta di culo in un paio di sorteggi a far rinascere il calcio italiano il calcio italiano oggi del Napoli che sta strapazzando il campionato e sta deliziando anche l'Europa due giocatori perché uno è infortunato che è i raspatori gli altri sono tutti stranieri giuventini vabbè non c'è niente interisti barella che si è fatto male bastoni è infortunato Darmiano non ha giocato Acerbi ma Acerbi ha un'età non è Franco Baresi che ti fa quel popò di finale mondiale a 34 anni non è Franco Baresi Acerbi Milanisti Tonali che ha fatto anche bene ci sono i due romanisti Pellegrini e Spinazzulla che hanno fatto una buona partita tutto sommato ma ragazzi sì siamo veramente alle pezze veramente alle pezze signori io ve lo dico subito in genere una grande nazionale nasce 15 anni dopo aver vissuto l'esempio di un'altra grande nazionale per esempio i campioli del mondo del 2006 ricordate i campioli del mondo del 2006 Del Piero Totti Nesta Cannavaro Materazzi Zambrotta Gattuso sono cresciuti a guardare i vari Vialli Paolo Rossi Scirea Tardelli Cabrini Baggio e compagnia cantante i campioni del mondo del 2006 stiamo dicendo ma anche quella generazione che parte dai mondiali del 98 fino al trionfo del 2006 sono cresciuti tutti grazie alla nazionale dell'82 per esempio per esempio gli stessi campioni d'Europa di due anni fa quelli sono cresciuti di Insigne Immobile e tanti altri Insigne Immobile Barella no Barella un po' più giovane e tutti gli altri i quali sono cresciuti guardando i campioni del mondo del 2006 ora se tanto mi da tanto noi dovremmo avere una nazionale appena decente appena decente diciamo forse per il mondiale per il prossimo mondiale dovremmo riuscire a qualificarci dovremmo riuscire a qualificarci al prossimo mondiale forse perché il prossimo mondiale calcolate 16 anni o forse anche dopo il prossimo mondiale saranno cresciuti i ragazzi che hanno trepidato per quelli di Euro 2012 ma perché è così che si cresce grandi generazioni di campioni cresciute guardando altri campioni è così è così purtroppo il calcio è ciclico o se è il Brasile che sforni i campioni a getto continuo l'Argentina che sforni la Germania che sforni i campioni a getto continuo oppure raga statta buona noi poi tra l'altro siamo un popolo maledettamente esterofilo e appena ci fu la sentenza a Bosman a ridanghete tutti stranieri io veramente la nazionale che ho visto oggi credetemi l'Udinese di Zaccheroni era più forte quella con Biro Famoroso Ametrano Rossitto il portiere Turci il giovane Jorgensen veramente l'Udinese di Zaccheroni era più forte di questa nazionale e con lo scazzo con cui ho guardato la partita vi invito a iscrivervi al canale ad attivare le notifiche a mettere dei like di Zaccheroni